Eccoci qui pronti per un altro viaggio attraverso le terre del Salento. Noi vi salutiamo da Martignano, nel cuore della Grecia, sulle Serre Salentine. Da Caia per andare alla scoperta delle successioni feudali sotto l'egida della famiglia che ha dato il nome a questo splendido borgo fortificato. Oggi da Sandonaci, in provincia di Brindisi, parleremo dell'antico mestiere dell'uscarparo, ossia il ciabattino, e andremo ad incontrare l'artigiano Pompilio Lezzi. Per farvi conoscere il nostro tesoretto di oggi vi porteremo alle campagne di Presisci, un grande monumento contadino delle terre del Salento. Da Montesano Salentino alla scoperta del male di Sandonato, conosciuto anche come il Morbo Sacro. Siamo a Campi e oggi conosceremo il professore Alfredo Calabrese. La sua vita e il suo luogo del cuore sono tutti da scoprire. Ed infine dall'Equile prepareremo i maccheroni con i pomodori scattariciati. Da Palazzo Palmieri a Martignano vi do appuntamento a questa sera alle 21.30 con le terre del Salento. A dopo.